Il Donbass. Ma allora perché adesso, oltre ad attaccare di qua, voi state attaccando Kharkiv, state attaccando qui il sud per andare ad Odessa? Dove volete arrivare? Qual è l'obiettivo? Fino alla Transnistria, se vogliamo essere precisi. Però vogliamo tornare un attimino, un passo indietro nel 2014, non c'era nessun potere legittimo nel paese. Voi volete arrivare fino qui? Cioè prendere tutto questo pezzo d'Ucraina? Fino qua? Sì, sì, nella Transnistria. Fino alla Transnistria. Beh, accidenti, allora il Donbass non c'è tra più niente. È una scusa il Donbass. Volete mezza Ucraina? Volete togliere il Mar Nero all'Ucraina? Ma tu pensi che l'Ucraina possa mai accettare una cosa di questo genere? Tu pensi che noi italiani e noi occidentali e noi che aderiamo alla Nato potremmo mai accettare una situazione di questo genere? Eh, francamente io direi di no. Se... ... ... ... ... ...